Cavalier Messina, cosa comporta, che significato ha per lei questa onorificenza? Il primo significato che mi viene in mente, l'ha detto anche oggi il Presidente della Federazione, e il riconoscimento a tutti i miei collaboratori che hanno contribuito a portare l'azienda a questo livello ed io sono il terminale che usufruisco di questa onorificenza. Questa onorificenza rappresenta un punto d'arrivo o di partenza per la sua azienda, per la sua attività? Io mi auguro che sia da stimolo per la nuova governanza aziendale che sia un punto di partenza in modo da ambire loro agli stessi risultati che abbiamo ottenuto noi come vecchia generazione.